Il pensiero economico di Sturzo e la sua coerente azione politica è il tema dell'incontro programmato nel pomeriggio di oggi alle ore 17 alla Casa delle Culture del Volontariato di Via Xiboli a Caltanissetta, su iniziativa dell'Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta. Attenzioni puntate sul tema progetti concreti per lo sviluppo. Relatore Francesco Averna. Previsti gli interventi di Gianfranco Di Maria, Graziella Riggi e Giuseppe Paruzzo. Modererà Filippo Maritato, direttore della Casa delle Culture del Volontariato. Don Luigi Sturzo nacque a Caltagirone nel 1871. Morì l'8 agosto 1959 a Roma. Una vita caratterizzata da un notevole impegno civile e politico. Sturzo era convinto assertore della necessità di coerenza per i credenti tra vita religiosa e impegno politico. Fu attento analista dei rapporti tra Chiesa e Stato. Nel 1919 fondò il Partito Popolare Italiano. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS